puntualmente gli imbecilli criminali sono in azione il primo incendio alle porte della città siamo nei pressi della panoramica fiamme altissime già abbiamo contattato i vigili del fuoco sperando che possano arrivare in tempo perché le fiamme come potete notare stanno interessando già i pini quei poveri pini che erano rimasti a breve saranno saranno in fumo perché noi purtroppo messinesi non amiamo il verde non amiamo il buon senso e l'educazione civica è una vergogna proprio uno schifo ogni anno ripetutamente la stessa storia è fermato in base a quello che trova è una storia di riuscire a fare la vita è una storia di riuscire a fare la vita è una storia di riuscire a fare la vita stiamo aspettando i pompieri ma hai sentito l'ambulanza ma non sono l'acqua possono salire dalla casa privata intanto non so quello che c'è là dietro dovrebbero bagnare l'erba di là perché c'è la casa dipende da quello che trova sotto sotto bosco la steppaglia tutto abbandonato e tutto giallo basta un tagliaerba e un paio di operai è risolto il problema ma non a giugno tu pensa un giorno di vento con quelle fiamme con le case qua ciao ciao panoramica zona panoramica basta fare prevenzione basterebbe un tagliaerba e un paio di operai per evitare di vedere poi queste situazioni perché l'incolto è ovunque erba ovunque è inammissibile poi facciamo i congressi le riunioni prevenzioni antincendio ma di cosa stiamo parlando assessore sindaco basta chiacchiere basta campagna elettorale basta pasticcini basta agite fuori porta cerchiamo di riportare la normalità perché siamo ai primi di giugno la campagna elettorale deve finire non possiamo stare sempre in campagna elettorale alla ricerca di voti dobbiamo riportare un po di sicurezza perché tutte le santi e stati la situazione è la medesima ingaggiamo personale ingaggiamo cittadini per pulire le campagne le colline i tratti incolti intracciamo i privati perché non è possibile ok vi aggiorneremo speriamo bene